I Cinque Stelle dicono che lei si sta attaccando Visco per rifarsi una verginità sul tema banche, se vuole una rapida replica su questo fronte. Lei ha detto poco fa che si aspetta delle sorpresine dall'inchiesta sulle banche. Quale sarebbe la sorpresina che ci stupirebbe di più? Risposta numero uno, Cinque Stelle. Il Movimento Cinque Stelle non è credibile perché quando noi abbiamo proposto di togliere il potere dei politici dalle banche popolari, loro hanno votato contro. Quando noi abbiamo proposto di cambiare le regole delle banche di credito cooperativo per difendere i risparmiatori, Cinque Stelle ha votato contro. Ma persino quando si è trattato, non nel settore bancario ma nel settore dei manager pubblici, di mettere un tetto allo stipendio, Cinque Stelle ha votato contro. Cinque Stelle è bravo a fare gli slogan sui social, ma poi quando si tratta di governare, persino a Torino, che hanno quella brava, hanno, da quello che sembra, falsificato il bilancio mettendo una scritta di 5 milioni in più o in meno perché non riuscivano a chiudere i conti. Non gestiscono un bilancio? Ti immagini se possono ragionare di come gestire la finanza internazionale? E questi Cinque Stelle? Rispetto alla seconda... Le vedrà la commissione d'inchiesta delle banche, io le dico questo, noi non abbiamo scheletri nell'armadio, noi abbiamo probabilmente uno stile istituzionale che non tutti apprezzano, ma siamo persone che non hanno niente da nascondere. In questi anni una certa vulgata ha fatto sapere che il problema delle banche in Italia fosse due banche del territorio a Chieti, a Ferrara, nelle Marche o ad Arezzo. E non è così. E se verranno fuori davvero le carte su quello che è accaduto in questi anni sulle banche, noi saremo i primi ad avere l'interesse che queste carte aiutino a colpire i colpevoli. Ma può accertare anche quello che ha fatto la politica in questi anni? La commissione ha un mandato ampio, lei sa che la commissione d'inchiesta ha poteri che sono quelli della magistratura addirittura. Dopodiché la politica però è sotto gli occhi di tutti che cosa ha fatto. La riforma delle popolari è giusta o no? Il fatto di non essere intervenuti nel 2012-2013 in Europa è giusto o no? Questo però è un giudizio politico. Poi se qualcuno, le faccio un esempio a caso che mi raccontavano ieri nelle Marche, fa il direttore generale di una banca, va in pensione al mattino con qualche milionata di trattamento di fine rapporto e poi viene assunto al pomeriggio o al giorno dopo come collaboratore, non assunto, viene chiamato ad avere una collaborazione, forse qualcosa lì non ha funzionato granché perché si parla di milioni di euro.